Per quanto riguarda il Sud non abbiamo impegni precisi per quanto riguarda gli investimenti da fare nel Sud e la quota di risorse da trasferire in maniera aggiuntiva a tutta l'area meridionale. E dunque rimane attuale la richiesta che noi abbiamo anticipato al precedente Presidente del Consiglio di avere un incontro con i Presidenti delle regioni meridionali. Una delle cose che cercheremo di chiarire, oltre gli investimenti nell'ambito del Recovery Plan, sarà relativa agli sgravi contributivi per le imprese del Sud, che dovrebbero avere questi sgravi fino al 30, credo, giugno di quest'anno, ma abbiamo l'Inps che fa resistenze, abbiamo i ministeri che attendono i pareri dell'Unione Europea e chiederemo ovviamente che si proceda rapidamente. Ad oggi in Campania le persone vaccinate, cioè che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, sono soltanto 105.000. Completeremo, ripeto, per febbraio la seconda dose e noi calcoliamo di poter avere per la prima settimana di aprile 500.000 persone vaccinate nella regione Campania.